Gli gnocchi non li faccio spesso, ma quando li faccio vengono una bontà divina. Mamma mia! Scaldiamo una padella con un filo d'olio d'oliva. Faccio rosolare uno spicchio d'aglio per pochissimi secondi. Direi che possiamo toglierlo. E ora aggiungo mezza cipolla tagliata finemente. E ora aggiungo 300 g di passata di pomodoro. Due pizzichi di sale. Copro e faccio insaporire per una ventina di minuti a fuoco medio-basso. Prendo 700 g di patate, le do una sciacquata. E ora le taglio a metà e le metto direttamente nella pentola con acqua abbondante. E ora mi sposto ai fornelli. Quindi faccio bollire le patate per circa 20 minuti dal bollore. Le patate sono pronte, quindi spengo e vado a scolarle. A questo punto prendo una ciotola, lo schiacciapatate e schiaccio le patate ancora calde. Non ti bruciare, Diana, che sono calde le patate. No, no, per quello ho preso la forchetta. Brava. Però schiacciandole da calde si fa meno fatica. Le patate sono pronte e ora aggiungo 150 g di fecola di patate. Che stai preparando, Giudiana? Una ricetta da leccarsi i baffi. Aggiungo anche un pizzico di sale e mescoliamo bene il tutto. A questo punto possiamo anche impastare a mano. Così sentiamo bene la consistenza dell'impasto. Ora sposto l'impasto sul tavolo e lo compatto bene con le mani. Dobbiamo ottenere un panetto liscio e omogeneo. E ora taglio il panetto. Lo divido in circa 5 parti. Sì, sono 5, ok. E ora ricaviamo un filoncino. Sai che forse ho capito che cosa stai preparando, Diana? Sicuro? Stai preparando gli gnocchi! Bravissimo! Hai visto? E voi l'avevate capito? Dai, scrivetemi qui sotto, vediamo un po'. E ora li tagliamo. Io manterrò questa dimensione. Se voi li volete più piccoli o più grandi, potete tranquillamente farli in quel modo. Gli diamo la tipica forma degli gnocchi. E ora siamo pronti per cuocere gli gnocchi. Quindi cuociamo gli gnocchi nell'acqua bollente salata per un minuto e mezzo circa. E quando salgono, guardate come sono saliti tutti e si sono fermati lì, sono pronti. E noi li tuffiamo direttamente nel sugo. Fissa che buoni che sono, io adoro gli gnocchi. C'ho un'acquolina. I nostri gnocchi sono pronti, ma prima di andare a condirli, mettete un mi piace al nostro video come sempre. Se vi piace questa ricetta, condividetela anche, mi raccomando. In questo modo non vi perdrete nessuna delle nostre ricette. Questo piatto è tutto mio. Il prossimo sarà mio però. Vediamo. Sopra finiamo con una spolverata di lievito alimentare in fiocchi. Questo ovviamente non è il classico lievito che si utilizza per fare il pane, è semplicemente un insaporitore. Che noi utilizziamo al posto del formaggio. Bravissimo. Che piatto invitante, mamma mia. Ma sarà buonissimo, Diana. Io non ho più pazienza, ne prendo due, guarda. Impossibile resistere agli gnocchi di Diana. Buonissimo, un po' il sugo. Così semplice, due ingredienti. Cosa abbiamo messo? Due ingredienti. Sì. La cosa più buona del mondo.